Si conclude oggi venerdì 15 ottobre la tre giorni delle TTG Travel Experience di Rimini. La fiera di rilevanza internazionale dedicata alle imprese del turismo in questa edizione 2021 ha ritagliato una vetrina d'eccezione alla Regione Marche grazie all'evento Le Marche, pronte per una nuova stagione organizzato dall'Associazione dei Tour Operator Incoming Inside Marche Live. All'evento apparecchiato al Grand Hotel di Rimini presente anche Francesco Acquaroli che oltre a essere Presidente della Regione ha anche la delega dell'assessorato al turismo. I dati li presenteremo la prossima settimana ma abbiamo avuto e registrato un'ottima affluenza che ci fa presupporre anche una ripresa che possa riportare la nostra Regione ad essere protagonista in una fase come quando era pre-Covid, il 2019. Pensiamo a dati similari. È chiaro che è una stagione condizionata perché fino a maggio-giugno le zone gialle e arancioni avevano condizionato sicuramente le prenotazioni, l'affluenza, anche la voglia e la possibilità di mettersi in moto verso una meta turistica. Poi dobbiamo anche registrare nel mese di settembre e anche i primi giorni di ottobre una buona affluenza nelle strutture alberghiere e ricettive. Questo lavoro che è stato fatto in questo periodo di tempo credo che possa presupporre una buona stagione anche per questo inverno. Certo è che molto dipenderà dalla pandemia, dalla recrudescenza che noi speriamo che non ci sarà e soprattutto dipenderà dalla nostra capacità di saperci organizzare. Su questo stiamo lavorando e speriamo anche che il flusso che è iniziato nel mese di fine giugno-luio continui anche nelle dimensioni che sono più console nella stagione, nel periodo adunnale-invernale.